Un confronto acceso, diretto e senza esclusione di frecciatine, come diversamente non poteva essere. I protagonisti in campo, d'altra parte, sono danni l'espressione della politica cittadina, nonché addirittura, almeno in un caso, ex compagni di parrocchia. Alvaro Fondi, Maurizio De Santis, Enrico Fondi e Pasquale Boccia, ieri 5 maggio, presso l'Aula Consigliare del Comune di Rocca di Papa, si sono fronteggiati ed affrontati in un incontro pubblico che partendo dai contenuti dei rispettivi programmi elettorali, ha poi affrontato i temi più caldi, edilizia popolare, mutuosociale, sicurezza e controllo del territorio e ciò su cui è puntato Alvaro Fondi, mentre De Santis ha concentrato la sua campagna sulla tempestività degli interventi pubblici, l'attenzione verso il centro storico, il commercio, nonché la regolamentazione dell'edilizia nelle periferie. Enrico Fondi ha invece saltato la vastità della propria coalizione, promozionando una Rocca di Papa che sia olimpica, denuclearizzata e deantennizzata, rifiutando l'ampiamento del perimetro del Parco dei Castelli Romani e promuovendo una maggiore regolamentazione e censimento degli stranieri. Per il sindaco uscente Pasquale Boccia le parole d'ordine sono state bene pubblico, armonia e partecipazione nella prosecuzione del mandato in scadenza, ponendo l'accento sull'equilibrio della propria lista, costituita equamente da otto uomini e otto donne. Molto più accesi i toni sui temi caldi non poteva essere altrimenti, il piano regolatore innanzitutto, considerato inesistente dai due fondi, e De Santis. Tuttavia liquidato dal Consiglio all'unanimità, secondo Boccia. Altro tema caldo, oltre alla valorizzazione del centro storico, alla gestione del patrimonio boschivo, i depuratori e la funicolare, quello sulla delocalizzazione delle antenne di Montecavo. I toni si sono poi inevitabilmente accesi quando si è passati alle domande del folto pubblico presente in aula. Giù sul tempo di un paio di questioni, urbanistica e viabilità, che poi battute e scambi di accuse, soprattutto tra cittadini e cittadini e tra candidati consiglieri e candidati consiglieri, hanno portato ad una rapida chiusura dell'incontro. Strette di mano, sorrisi, qualche chiarimenti, un paio di spintoni, ma tutto si è chiuso nell'alveo dell'aula consigliare. Tra dieci giorni Rocca di Papa va al voto e il nuovo sindaco, chiunque esso sia, avrà di fronte questioni serie ed urgenti da affrontare, con decisione.